L'Armenia è ufficialmente il 124esimo membro della Corte Penale Internazionale, il principale tribunale per crimini di guerra e contro l'umanità. La cerimonia si è tenuta giovedì 8 febbraio a Laia, dove la Corte ha sede. Nell'ottobre del 2023 Yerevan aveva firmato la ratifica dello Statuto di Roma, che riconosce la giurisdizione della Corte. L'ordinamento è entrato in vigore il 1 febbraio scorso. La decisione dell'Armenia è stata considerata una presa di distanza dalla Russia, storico alleato, soprattutto dopo che la Corte ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin.